Il procuratore della Repubblica di Bari, Giuseppe Volpe, ha chiesto all'INAIL, proprietario dell'immobile, di sollecitare il comune di Bari a concedere ulteriore tempo per lo sgombero del pala giustizia di via Nazareans. L'immobile era stato dichiarato inagibile a fine maggio, in seguito a una perizia commissionata proprio dall'INAIL e a cui ha fatto seguito una perizia del consulente della procura, professor Bernardino Chiaia. È stato proprio quest'ultimo il 10 agosto a consegnare l'integrazione alla perizia chiesta dai magistrati titolari dell'inchiesta sulle condizioni dello stabile di via Nazareans, Roberto Rossi e Fabio Buquicchio. Nel supplemento di verifica si esamina la situazione dell'edificio a due mesi dall'avvio dello sgombero, dopo che molti carichi pesanti sono stati spostati ai piani bassi ed è stato inibito l'accesso al pubblico e l'attività di udienza. Secondo il perito la situazione sarebbe meno pericolosa di prima e dunque i magistrati potrebbero continuare a lavorare nel palazzo in via temporanea anziché trasferirsi nell'edificio ex INAIL di via Brigata Regina in cui troverebbero posto solo pochi magistrati e cancellieri. Il comune di Bari si è detto disponibile a valutare un'eventuale richiesta da parte dell'INAIL.